Cominciamo, condivido lo schermo e immagino che vediate la prima pagina, se no fatemelo sapere subito. Ok, quindi ciò di cui voglio parlarvi oggi, come ha detto Antonella, è dare una panoramica della fisica delle particelle elementari al giorno d'oggi. Cioè sostanzialmente vorrei coprire il modello standard, cioè lo status attuale di tutto quello che sappiamo sul modello standard, sul framework teorico che contiene tutta la nostra comprensione sulla fisica delle particelle elementari, sugli esperimenti che vengono utilizzati per scoprire, che sono stati utilizzati per scoprire queste cose, che vengono ancora utilizzate per scoprire quello che ci manca da imparare e infatti finire con una carrellata su le cose che ancora abbiamo da scoprire. Quali sono i problemi aperti nella fisica del mondo subatomico al giorno d'oggi? Allora, l'idea è che vogliamo cominciare, se riuscissi a avanzare, parlando delle cose del concetto base, cioè di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di quello che si fa al CERN sostanzialmente, ma non solo, anche in altri posti nel mondo, e cioè fare ricerca fondamentale in fisica delle particelle. Questo vuol dire cercare di capire e studiare quali sono i costituenti elementari della materia, quali sono le forze fondamentali che governano le interazioni tra questi costituenti e quindi più in generale capire il concetto, capire l'origine, il contenuto e la struttura dell'universo. E come si fa a scoprire le cose in fisica delle particelle? Come si avanza? Come si progredisce in fisica delle particelle? Beh, l'idea di base, ci sono vari metodi che vedremo dopo, ma l'idea di base è sostanzialmente una, ed è quella di accelerare delle particelle elementari che conosciamo bene, per esempio i protoni oppure gli elettroni, fino a delle energie elevatissime, per esempio dell'ordine di 14 tera elettronvolt, come al CERN di Ginevra, e poi portarle a collidere. Allora, quando dico tera elettronvolt, dovrebbe essere chiaro a tutti, ma se no lo specifico si tratta di una misura di energia, un'itena di misura dell'energia, quindi un elettronvolt è l'energia che acquisisce un elettrone saltando un potenziale di un volt, e tera vuol dire 10 alla 12, cioè mille miliardi. Quindi stiamo parlando di accelerare particelle come i protoni o come gli elettroni fino a 14.000 miliardi di questa unità di energia che è l'elettronvolt. E l'idea è che, grazie alla formula più famosa del mondo, diciamo così, è uguale a mc quadro, l'energia che forniamo a queste particelle si trasforma in qualcos'altro, si trasforma nella massa di nuove particelle, di nuovi oggetti che non esistevano prima della collisione realizzata tra le particelle, con una costante di proporzionalità che è c, la velocità della luce. Quindi trasformiamo l'energia fornita a particelle ben note e conosciute come gli elettroni o i protoni in massa, creando delle particelle nuove che vogliamo studiare. Poi analizziamo accuratamente i prodotti di queste collisioni e speriamo di scoprire, scopriamo nuove particelle, nuove forze o in generale nuovi fenomeni, nuova fisica, la nuova fisica che riusciamo ad aprire davanti a noi. Quindi l'idea sostanzialmente, se volete, è che nel fare le collisioni a un acceleratore come quelli del Cern di Ginevra stiamo riproducendo un mini Big Bang. Ogni volta che collidiamo, facciamo collidere due protoni in un acceleratore come quelli del Cern di Ginevra, stiamo rimettendoci nelle condizioni in cui si trovava l'universo pochi istanti dopo il Big Bang. E questa non è soltanto un'analogia, ma è una verità, è sotto certe semplificazioni, nel senso che, come vi dice questo diagramma, quello che sappiamo sull'universo è che è partito da uno stato di temperatura e di densità estremamente elevata che chiamiamo appunto il Big Bang, e poi non ha fatto nient'altro che raffreddarsi e espandersi. Quindi vedete qua sulla destra del diagramma, se arriviamo ai giorni nostri, siamo in un universo che è estremamente freddo, lo spazio interlare è estremamente freddo e estremamente diluito. Ma se rimonto all'indietro nel tempo, vado verso condizioni di energia o di temperatura, se volete, che sono sempre più elevati. Quindi vuol dire che se per esempio mi metto, riesco a produrre con le collisioni tra le particelle elementari, una energia dell'ordine di, diciamo, 1, 10 o 14 tera elettronvolta, sto riproducendo nel mio acceleratore le condizioni in cui si trovava l'universo 10 alla meno 10 secondi dopo il Big Bang, cioè un decimo di miliardesimo di secondo dopo il Big Bang. Ed è questo che rende la cosa particolarmente interessante. Allora, vediamo un attimo qual è l'impianto teorico che sottende alla nostra comprensione attuale della fisica delle particelle. L'impianto teorico si chiama modello standard. Che obiettivamente non ha un nome particolarmente interessante, nel senso che messa così sembra un po' il modello base, senza particolari optional né niente. Immaginate, dovremmo chiamarlo una cosa tipo la teoria fondamentale della fisica delle particelle. Come la teoria della gravitazione universale di Newton descrive l'orbita dei pianeti, ma anche la mela che cade, il modello standard della fisica delle particelle elementari è la teoria che riassume tutte le nostre conoscenze attuali sul mondo subatomico delle particelle. Che cosa dice questo modello? In che cosa consiste? Un modo per rappresentarlo è sostanzialmente questo, cioè questa specie di tabella che organizza un po' le nostre conoscenze attuali. Allora, tutti sapete benissimo che la materia che conosciamo, per esempio lo schermo che state guardando, o l'aria, o noi stessi, è costituita di atomi, questo lo sappiamo da più di un secolo. Questi atomi sono costituiti da un nucleo attorno al quale girano degli elettroni, anche questo lo sappiamo dall'inizio del Novecento, e i nuclei sono costituiti a loro volta di neutroni e protoni che si trovano impacchettati dentro ai nuclei. I protoni e i neutroni a loro volta sono fatti di tre particelle fondamentali che si chiamano quark e che esistono per questo scopo di due tipi, del quark up e il quark down, che vedete qua sotto. Allora, il quark up ha una carica elettrica pari a più due terzi, e il quark down ha una carica elettrica pari a meno un terzo. Quindi vuol dire che se metto insieme due quark up e un quark down, capite bene che quello che ottengo è una particella con una carica più uno. Più due terzi più due terzi meno un terzo mi dà una carica elettrica più uno. Mentre invece se metto insieme due quark down e un quark up, otterrò una particella di carica elettrica neutra zero. Quindi due quark up e un quark down mi creano il protone, che è un pacchetto di tre quark, due up e un down. E due quark down e un quark up mi creano il neutrone, che è un pacchetto di altre tre quark di carica elettrica neutra. Quindi questa prima fila di particelle, questa prima famiglia si dice qua sopra nella prima riga di questa tabella, cioè il quark up e il quark down, l'elettrone e poi i neutrini elettronici che vengono prodotti durante le reazioni radioattive, costituiscono tutta la materia che conosciamo. Prendendo i quark up e i quark down e combinandoli in modo opportuno ottengo i protoni e i neutroni, combinando in modo opportuno i protoni e i neutroni ottengo l'idrogeno, l'elio, il litio, l'uranio, il ferro e quant'altro, e mettendoci attorno agli elettroni costituisco gli atomi che poi fanno le molecole, la materia, i pianeti, le stelle, le galassie e tutto quanto. Quindi questa prima famiglia, si dice, costituisce tutta la materia che conosciamo. Ora, per ragioni non note a noi, almeno per il momento, in natura questa famiglia è in realtà replicata due volte, come vedete nelle linee sottostante. Cioè esistono delle particelle che hanno delle proprietà molto simili a quelle delle particelle della prima linea, eccetto per una caratteristica che è quella della massa, di avere una massa molto più elevata. Quindi per esempio, così come in natura esiste l'elettrone, che ben conosciamo, con una carica elettrica, per esempio, di meno uno, in natura esiste anche il muone, che è una particella sostanzialmente identica all'elettrone, con tutte le stesse proprietà, per esempio la carica elettrica uguale a meno uno, ma ha una massa più elevata. E quindi possiamo dire che è una specie di fratello grasso dell'elettrone che si trova ad avere le stesse proprietà, ma molto più massa. E così esistono anche il quark charm e il quark strange, che sono i corrispondenti grassi del quark up e del quark down, e il neutrino muonico. E poi esiste una terza famiglia, che è costituita dal leptone tau. Questa famiglia, questo gruppo si chiama leptoni, perché sono particelle tipicamente più leggere. Una famiglia che è costituita dal leptone tau, dal quark top e dal quark bottom, che sono i rispettivi, i corrispettivi ciccioni delle particelle che abbiamo definito, che abbiamo guardato prima. Ora, capite bene che questa struttura ha una logica sotto di sé. Ci sono delle famiglie che sono le linee orizzontali e ci sono dei gruppi, i leptoni e i quark da un'altra parte, replicati nelle tre famiglie. Quindi c'è una logica, ma ci sono anche delle cose che non capiamo. Per esempio, il perché queste particelle abbiano delle masse così differenti una dall'altra. L'elettrone ha una massa molto piccola, come rappresentato qui da un puntino relativamente piccolo, mentre invece l'altro estremo, il quark top, è la particella elementare più pesante, più massiva conosciuta attualmente, ha una massa di 175 volte la massa di un protone, quindi è più pesante di molti atomi, per esempio, o ben più pesante di... è più pesante quasi come un atomo di piombo o qualcosa del genere. Queste sono le particelle che costituiscono la materia. La prima fila sono le particelle che costituiscono veramente la materia che esiste, la seconda e la terza fila sono delle famiglie aggiuntive che hanno la proprietà di avere una massa più elevata e quindi, avendo una massa più elevata, si disintegrano, decadono, si liberano in particelle della prima fila, come vedremo più avanti. Poi, a lato delle particelle di materia, esistono le particelle di antimateria. Quindi, per esempio, così come esiste l'elettrone con una carica elettrica meno uno, esisterà una particella che si chiama antielettrone o positrone, che ha di nuovo le stesse proprietà dell'elettrone, quindi la stessa massa e le stesse tipi di interazioni, ma con una carica elettrica opposta, quindi con una carica elettrica più uno, in questo caso. Inllo stesso modo, esiste il quark up e esiste l'anti-quark, anti-up, che avrà una carica elettrica meno due terzi, e così per tutti gli altri. Come saprete, probabilmente avrete sentito dire, materia e antimateria non vanno ben d'accordo quando una particella di materia o una particella di antimateria si incontrano, sostanzialmente si annichilano, si autodistruggono e formano un lampo di pura energia o qualcosa del genere. Ok, quindi le particelle di materia del modello standard e di antimateria le abbiamo viste. E poi ci sono le particelle che si occupano di trasferire, di mediare, di trasportare le forze fondamentali della natura. Le forze fondamentali della natura sono sostanzialmente quattro. La forza elettromagnetica, la forza nucleare debole, la forza nucleare forte e la forza gravitazionale. Allora, la forza elettromagnetica, conosciamo benissimo, è quella responsabile della trazione elettrica e magnetica, per esempio, tra due cariche di segno opposto, della repulsione tra due cariche di segno uguale, ed è trasferita ed è trasportata da una particella che chiamiamo fotone. È una particella di massa zero che realizza il trasporto della forza elettromagnetica. Cosa vuol dire realizza il trasporto della forza? Vuol dire che quando io penso a due cariche elettriche, per esempio, diciamo, una positiva e una negativa, che si attirano, quello che in realtà sta succedendo nel modello, nella nostra comprensione del microcosmo, della fisica delle particelle veramente elementari, è che queste due cariche, per esempio un elettrone e un quark-up, si stanno continuamente scambiando un flusso di fotoni che trasporta, che fa sentire a una particella la presenza dell'altra e viceversa. E quindi la trazione elettrica o magnetica, o la repulsione elettrica o magnetica, non è altro che la concretizzazione macroscopica del continuo scambio di particelle mediatrici, che chiamiamo in questo caso, che sono in questo caso i fotoni. La forza nucleare debole è quella responsabile delle interazioni radioattive, per esempio il decadimento radioattivo dell'uranio o le reazioni di fusione nel centro del Sole, e così via, ed è mediata e trasportata da, in modo analogo alla forza elettromagnetica, è trasportata da particelle che chiamiamo bosoni W più W meno e bosone Z. In questo caso abbiamo tre particelle, non più una soltanto, come è il caso della forza elettromagnetica, ma il principio è lo stesso. Lo scambio di interazioni deboli significa lo scambio di questi fotoni, di questi bosoni W più, W meno e Z. Una differenza fondamentale però tra la forza elettromagnetica e la forza nucleare debole è che i bosoni W e Z sono massivi, cioè hanno una massa non nulla, mentre invece il fotone ha una massa zero. E questo anche intuitivamente vi fa capire che con una massa elevata l'interazione si trasmette meno facilmente, cioè c'è più difficoltà a trasmettere la forza, ed è per questo che la forza nucleare è più debole della forza elettromagnetica. La forza nucleare forte, strong, è responsabile del tenere impacchettati tra di loro i quark all'interno dei protoni e dei neutroni e i neutroni e i protoni impacchettati all'interno di un nucleo. È trasportata da i gluoni, che sono otto, un tipo di particelle che comprende otto esemplari, proprio chiamati gluoni perché il loro ruolo, se volete, è quello di tenere incollati, dall'inglese glu colla, i quark all'interno del protone o del neutrone e i protoni e i neutroni all'interno del nucleo. Ovviamente è una forza molto forte perché capite bene che per tenere vicine, attaccate un all'altro, per esempio due quark up che hanno la stessa carica elettrica dentro a un protone, c'è bisogno di una forza che vinca la repulsione elettromagnetica tra le due cariche positive. Questa forza è proprio la forza forte che tiene impacchettati i quark tra di loro. L'ultima forza fondamentale della natura è la forza gravitazionale, però il modello standard non si occupa di descrivere i fenomeni gravitazionali, quindi le orbite dei pianeti o l'attrazione gravitazionale, perché sostanzialmente non siamo in grado di descrivere con gli stessi utensili teorici la forza di gravità rispetto alle forze elettromagnetiche nucleare debole e nucleare forte che riusciamo a trattare con la meccanica quantistica. Quindi la relatività generale tratta la forza gravitazionale, ma non riesce a, almeno per il momento, non siamo riusciti a sposarla con la meccanica quantistica che invece descrive le prime forze, e quindi i fenomeni gravitazionali restano un po' da parte per quello che riguarda il modello standard. Ok, il modello standard ovviamente non è finito qui, c'è una particella che ha avuto un grande momento di notorietà qualche anno fa quando è stata scoperta al CERN di Ginevra, ed è il bosone di Higgs. È una particella un po' sui generis, ne parleremo più in dettaglio più avanti, perché non è né una particella che costituisce la materia, come quelle della tabella qua a sinistra, né una particella che trasporta una forza, come quelle della colonna qua a destra, ma è una particella che ha un ruolo speciale e sarà quello di contribuire al meccanismo che dà la massa a tutte le altre particelle che abbiamo visto, particelle elementari che abbiamo visto. Ok, quindi questa è la costruzione del modello standard, cerchiamo di semplificare un po' l'immagine e di guardare quali sono i concetti fondamentali e le leggi fondamentali che governano i giochi tra queste particelle. Allora, qui ho semplificato la tabella mettendo i simboli delle particelle che usiamo tipicamente, cioè elettrone, muone, tau e neutrini di tipo elettronico, muonico e tauonico e infine i sei tipi di quark e vediamo un attimo come agiscono le forze, cioè su quali particelle di materia agiscono le forze di cui abbiamo parlato prima. Allora, beh, è chiaro, la forza elettromagnetica agisce sulle particelle che hanno una carica elettrica, quindi agirà sulle particelle attualmente circondate in azzurro, quindi sull'elettrone, il muone e il tau che hanno una carica negativa o positiva nel caso degli antiparticelle anti-elettrone, anti-muone, anti-tau e poi sui quark che come abbiamo visto hanno una carica più due terzi o meno un terzo. Quindi la forza elettrica agisce, il fotone agisce, si accoppia alle particelle con carica elettrica, non nulla. Nello stesso modo, in modo analogo, la forza debole mediata dai bosoni W più W meno E Z agisce sulle particelle che hanno una carica debole. Questo è un concetto un pochino meno familiare della carica elettrica, ma vi dico che, insomma, la carica debole ce l'hanno tutte le particelle circondate da un quadrato blu e quindi sostanzialmente tutte quelle che vediamo sulla tabella di sinistra, incluso il bosone di X. Quindi, per esempio, i neutrini non hanno carica elettrica, quindi non interagiscono con i fotoni, cioè con la forza elettrica, ma hanno carica debole e quindi interagiscono grazie allo scambio di bosoni W e Z. Questo vi fa anche capire che le interazioni dei neutrini saranno molto più deboli rispetto alle interazioni di un elettrone che invece ha un'interazione elettrica. Le particelle, la forza forte interagisce, cioè i gluoni interagiscono con le particelle che hanno una carica forte, di nuovo, e questa carica forte ce l'hanno i quark che abbiamo circondato di rosso o di marroni in questo momento e questa carica forte la chiamiamo convenzionalmente colore. Cioè i quark possiedono, oltre alla loro carica elettrica, e oltre alla loro carica debole, anche un'altra proprietà che è questa carica forte che per ragioni storiche viene chiamata colore. Questo vuol dire in particolare che ogni quark esiste con tre possibili colori. Potremmo dire tre possibili valori di carica, ma per ragioni appunto storiche di semplicità si è chiamata colore. Quindi il quark up, per esempio, esiste in colore verde, colore rosso e colore blu. Questi colori non hanno niente a che fare col colore della vita di tutti i giorni, ma sono un modo di definire una nuova proprietà che è questa proprietà che abbiamo chiamata colore. Quindi in realtà non esistono solo sei quark, ma esistono diciotto tipi di quark, perché ognuno dei sei quark è moltiplicato per tre per il suo colore. Anche le particelle di forza, quindi il fotone, il bosone W più, il W meno, il bosone Z e gli otto gluoni possono essere soggette alle forze stesse. Quindi immaginate bene, avete probabilmente già capito che siccome il bosone W più e il bosone W meno sono chiamati così perché hanno una carica positiva e negativa, anch'essi saranno soggetti all'interazione con la particella che media la forza elettrica e cioè il fotone. Quindi ci potranno essere interazioni anche tra il bosone W più e meno e il fotone che media l'interazione elettromagnetica. Quindi ci sono queste varie interazioni tra le particelle, ma non tutto può avvenire. Ci sono alcune cose che devono essere rispettate, alcune regole di conservazione che devono essere rispettate. La prima è abbastanza familiare probabilmente, che è quella della conservazione della carica elettrica. Voglio dire che in un qualsiasi processo di fisica delle particelle, fondamentale, dopo vedremo alcuni esempi, la carica elettrica deve essere sempre rispettata. Cioè se parto con un certa quantità di carica elettrica, che so, più 2, devo avere alla fine del processo la stessa quantità di carica elettrica, cioè per dire più 2. Posso aver creato e distrutto 5 particelle negative e creato 7 particelle positive, ma il netto alla fine deve essere sempre più 2. Non posso creare né distruggere carica elettrica. E che è abbastanza intuitivo. In natura nulla si crea, nulla si distrugge, nel senso che in questo caso è la carica elettrica che deve essere conservata tra il prima e il dopo dei processi. In modo analogo, deve conservarsi nell'interazione di fisica delle particelle elementari la carica di colore. Cioè vuol dire che se parto in un processo con 3 quark verdi, alla fine del processo devo avere 3 quark verdi e poi potrò averne 5 blu e 5 anti-blu, 10 rossi, 10 anti-rossi e così via, ma alla fine devo avere un bilancio netto di colore dalla sinistra alla destra, diciamo, dal processo iniziale al processo finale. Queste sono abbastanza logiche, diciamo, come leggi di conservazione. sono dettate dalle simmetrie che stanno nascoste sotto questa struttura abbastanza logica sotto forma di tabella periodica. Ce ne sono altre di conservazioni che è importante tenere a mente. Una è quella del sapore barionico totale. Vuol dire che in un qualsiasi processo devo conservare questa quantità che si chiama sapore barionico che non è nient'altro che il numero totale di quark. Cioè voglio dire che se in un processo parto con dieci quark sistemati in vario modo alla fine del processo devo avere sempre un netto di dieci quark un totale di sapore barionico più dieci. Posso avere venti quark e dieci anti-quark di nuovo ma alla fine devo avere un totale di più dieci. Invece per i leptoni cioè le particelle come l'elettrone il muone il tau e i loro neutrini vale una legge di conservazione più stretta che si realizza famiglia per famiglia. Quindi si dice che il sapore leptonico individuale cioè di ognuna delle famiglie deve essere conservato. Voglio dire che se parto con un sapore leptonico dell'elettrone più uno nel processo all'inizio del processo devo avere sempre un sapore leptonico dell'elettrone più uno dall'altra parte cioè non posso trasformare un elettrone in un muone non posso trasformare un elettrone in un tau se non controbilanciando in modo che tutto quanto sia conservato. Ok? Questi sono fatti di natura cioè è perché così è costruito il modello standard e sono le simmetrie sottointese soggiacenti alla teoria che ci permettono di ricavare queste leggi di conservazione. Ok andiamo a guardare un attimo i quark e in particolare come i quark si distribuiscono all'interno delle particelle composte. Un po' l'ho già accennato perché ho già parlato del protone e del neutrone. Il concetto fondamentale è che la forza forte che è quella trasportata appunto dai gluoni ha la proprietà bizzarra di richiedere che nessun quark possa restare isolato diciamo in natura. Quindi mentre un elettrone lo posso trovare diciamo così isolato nel vuoto oppure al di fuori che ruota attorno a un nucleo di un atomo in questo non dà nessun problema un quark non potrà mai essere isolato da solo. La forza forte impone che i quark si combinino sempre a creare degli stati che sono degli stati composti di quark che chiamiamo adroni. E la legge è che questi adroni devono avere un colore totale una carica di colore totale un colore totale neutro quindi diciamo sostanzialmente bianco tanto per riprendere le immagini di prima. Ma questo è in opposizione rispetto alla carica elettrica cioè un elettrone con una carica elettrica meno uno può benissimo esistere isolato in una stanza mentre invece un quark non potrà mai esistere un quark verde non potrà mai esistere da solo ma deve essere ingabbiato in uno stato composto il cui detto padrone il cui colore totale sia bianco. Ma vediamo quali sono i modi fondamentali per costruire diciamo così il colore bianco. La prima possibilità è quella che citavo già prima e cioè di prendere tre quark come per esempio il caso del protone up, up e down o il caso del neutrone up, down e down e prenderli di tre colori diversi quindi verde, rosso e blu. In questo caso lo stato totale legato che è lo stato composto che è il nostro protone avrà un colore netto bianco quindi può esistere. Nello stesso modo il neutrone ha tre stati di colore diversi e quindi il colore totale sarà bianco e quindi può esistere. Non possono esistere particelle in natura in cui prendo non so due quark rossi e un quark blu questa avrebbe una carica netta di colore non bianco e quindi la natura lo proibisce. I protoni e i neutroni sono due esempi di barioni cioè di particelle che sono formate dal legame di tre quark che in questo modo annullano il loro colore totale per fare un bianco. Ce ne sono molti altri di barioni per esempio gli iperioni e altre bestie speciali ma il protone e il neutrone sono i più conosciuti. L'altra possibilità per fare uno stato di colore neutro è quello di mettere insieme un quark con un anti-quark di colore opposto. Quindi per esempio guardate questo primo esempio l'esempio del pione di zero di carica elettrica zero pi zero questo stato è formato con un quark up e un anti-quark un quark blu e un anti-quark anti-blu che quindi è rappresentato con il giallo questa barra al di sopra vuol dire l'antimateria. Quindi qui è chiaro che il colore totale è bianco perché è un quark di un colore e l'anti-quark è dell'anticolore e quindi alla fine quello che mi ritrovo è un colore bianco. Posso fare anche altre combinazioni ovviamente un quark up blu con un anti-quark strange anti-blu quindi giallo e questo mi forma un stato che chiamiamo K1 positivo K più che ha particolarità diverse da quelle del pione ma è sostanzialmente anche lui costituito da un stato legato di un quark e un anti-quark questi tipi di particelle esistono anche qui a decine se non a centinaia e vengono chiamati mesoni perché storicamente si trovavano a avere una massa intermedia tra quelle dei leptoni che sono le particelle più leggere e i barioni che sono le particelle più pesanti in realtà al giorno d'oggi non è più vero perché ne abbiamo scoperto talmente tanti che ci sono dei mesoni più pesanti dei barioni e viceversa ora quindi immaginate quante combinazioni possibili uno possa pensare di creare prendendo i sei tipi di quark che abbiamo qui creando tutti i vari stati composti possibili e immaginabili creerò delle decine o addirittura delle centinaia di particelle che appunto sono quelle di cui citavo qualche esempio infatti negli anni 60 e 70 del secolo scorso facendo l'esperienza di fisica delle particelle agli acceleratori si trovava uscire saltar fuori decine di questi tipi di particelle tutte diverse tra di loro e non si capiva quale fosse la logica che ci stava sotto la logica che ci sta sotto è esattamente questa che ci sono dei sei tipi di quark con tre diversi colori rappresentati da questa tabellina che abbiamo visto qua sopra che possono combinarsi secondo le regole che vi ho dato quindi abbiamo un pochino più chiara la logica rispetto a quello che si aveva circa 50 anni fa ok ma fino adesso abbiamo parlato quindi delle particelle del contenuto del modello standard le particelle che esistono che siano essere particelle di materia o particelle di forza o il bosone di X ma non abbiamo descritto come queste particelle si mettono in gioco l'una con l'altra quali sono le leggi che governano la dinamica del sistema cioè come un sistema di particelle evolve questo è descritto dalla famosa conosciuta la grangiana del modello standard che è questa formula che ha un aspetto talmente innocuo e compatto che possiamo metterla su una tazza che potreste comprare nel negozio di souvenir del CERN o un cappellino o una maglietta la grangiana del modello standard questa formula che vedete qui è sostanzialmente la formulazione matematica delle leggi che governano le interazioni tra le particelle che abbiamo appena visto quindi ognuno in questa formula ognuno dei simboli che sono rappresentati e tra un attimo vi scrivo qualcuno rappresenta una delle particelle che abbiamo visto prima o una classe di particelle che abbiamo visto prima e il fatto che esistano dei termini in questa equazione in questa formula ci dice che queste particelle possono interagire tra di loro nel modo descritto dal termine che vi illustro tra un istante quindi prendiamo per esempio questa la terza riga di questa di questa di questa formula la grangiana la particelle il simbolo psi che vedete qua per primo rappresenta le particelle di materia quindi per esempio un elettrone o un neutrino o i quark rappresenta il campo associato a ognuna di queste particelle di materia per far semplice diciamo rappresenta una di queste particelle di materia per esempio non so un elettrone questo è semplicemente yij è semplicemente un coefficiente numerico l'altro simbolo psi j è un'altra particella di materia per esempio che so il positrone e il simbolo phi rappresenta il campo di higgs il bosone di higgs la particella sui generis che abbiamo visto prima quindi questa terza riga questo termine mi dice che in natura può succedere che un elettrone e un positrone interagiscano tra di loro con il campo di higgs guardiamo per esempio il secondo termine questo secondo termine si legge i ok e poi psi di slash psi mi rappresenta la cosa seguente il simbolo psi è di nuovo quello delle particelle di materia o in questo caso di antimateria visto che c'è una barra per esempio un positrone l'altro simbolo psi è le particelle di materia quindi per esempio un elettrone e questo di slash è una scorciatoia per scrivere le particelle che mediano le forze quindi per esempio il fotone quindi questa seconda riga questo secondo termine mi indica che esiste in natura la possibilità che interagiscano un elettrone un positrone e un fotone ok e così via per gli altri termini la prima linea qua sopra rappresenta l'interazione delle particelle di forza tra loro stesse quindi f richiamo un po' al concetto delle particelle di forza e l'ultima riga qua sotto rappresenta l'interazione del campo di higgs phi con se stesso ma ci interesseranno meno rispetto rispetto alle altre quindi l'ala grangiana mi dice quali sono le particelle contenute nel modello standard questo psi questo fi questo f e così via e mi dice quali sono le interazioni tra le une e le altre questo termine che mi dà l'interazione tra le materia e la forza per esempio o questo che mi dà l'interazione tra la materia e il campo di higgs ho messo così è un po' arida diciamo secca matematica ma fortunatamente nel secolo scorso il signor Richard Feynman un fisico degli anni 50 e 60 che poi ha anche avuto il premio Nobel ha trovato il modo di rendere questa rappresentazione più pittorica e anche più utile inventando quelli che si chiamano i diagrammi di Feynman di cui compare qui un qualche esempio i diagrammi di Feynman sono queste rappresentazioni grafiche che corrispondono a ciascuno dei termini della formula Lagrangiana del modello standard guardiamo per esempio questo sulla corrispondente alla terza riga questo diagramma di Feynman mi dice che una particella elettrone questa riga che se ne va verso l'alto a destra e una particella positrone questa riga che se ne va verso il basso a destra interagiscono scambiando mediandosi un bosone di X che è questa particella sulla linea tratteggiata che va verso sinistra quindi si dice che nella Lagrangiana esiste questo vertice che corrisponde al fatto che un bosone di X può splittarsi si dice o comunque dividersi in un elettrone e un positrone o vista nel modo opposto un elettrone e un positrone possono fondersi per creare un bosone di X guardiamo quest'altro esempio la seconda riga che è ancora più intuitivo forse questa seconda riga mi dice che una particella fotone questo gamma che è rappresentato con una linea ondulata perché le particelle di forza ci piace rappresentarle come delle onde interagisce interagisce con un elettrone e un positrone gli stessi che abbiamo visto prima grazie a questo vertice questo diagrammino che corrisponde alla al termine della Lagrangiana che sta sulla seconda riga questo psi di slash psi e così via per le altre questi verso l'alto sono le interazioni tra i bosoni W e i bosoni Z che sono quindi particelli di forza queste sono le interazioni tra i gluoni che quindi sono rappresentati come molle per dare l'idea che tengono il quark ben attaccati uno all'altro all'interno dei protoni e dei neutroni e così via per il caso del bosone di X e tutto il resto quindi i diagrammi di Feynman sono molto utili da un lato per rappresentare graficamente quello che sta succedendo per esempio un fotone che si divide in un elettrone e un positrone ma sono anche molto utili per calcolare le cose per calcolare le proprietà fisiche le osservabili fisiche dei processi a cui siamo interessati vediamo di metterli in gioco un attimo e di fare alcuni esempi il primo esempio che guardiamo di diagrammi di Feynman e di processi relativi è quello di una collisione tra un elettrone e un positrone quindi e meno e più allora scriviamo il diagramma di Feynman immaginiamo di trovarci all'acceleratore LEP che era un acceleratore in funzione al Cerno di Ginevra dagli anni 80 ai primi anni degli anni 2000 che faceva esattamente questo cioè creava prendeva un fascio produceva un fascio di elettroni da un lato e un fascio di positroni dall'altro lato e li portava a collidere ad un certo punto nel centro degli esperimenti dedicati lo faceva ad un'energia totale di 105 GeV l'energia a cui si riusciva all'epoca ad accelerare gli elettroni e i positroni quindi vedete il diagramma di Feynman rappresenta esattamente questo che vi ho detto cioè l'elettrone che arriva di qua dal basso a sinistra che si propaga quindi che cammina nello spazio diciamo e il positrone che arriva in alto a sinistra dall'altro lato che si propaga nello spazio e a un certo punto questi vengono portati a collidere e a incontrarsi e quindi a collidere quello che fanno quando collidono una delle cose che possono fare è che producono si fondono per produrre un bosone Z questa è una delle possibilità che mi sono date dal modello standard infatti se vedete corrisponde a questo grafico che abbiamo visto prima dove al posto del fotone in questo caso ci ho messo il bosone Z è una delle altre possibilità questo bosone Z si propaga anche lui per una certa distanza percorrerà un certo distanza in un certo tempo e poi a un certo punto attacchiamo un altro diagramma di Feynman quello che può fare è dividersi in una coppia di muone per esempio e antimuone quindi muone negativo e antimuone positivo quindi quello che ho fatto in questo caso in questo esempio è quello che succedeva all'app quotidianamente miliardi e miliardi di volte per secondo si prendevano due elettroni e positroni un fascio di elettroni e positroni si facevano collidere e in varie occasioni quello che possono fare loro è produrre un bosone Z il quale bosone Z si disintegra subito dopo in un muone e un antimuone quindi quello che sto facendo qui è creare quello che facevo all'app che faccio sempre nella fisica delle particelle è creare due nuove due nuovi oggetti che sono in questo caso il muone negativo e il muone positivo a partire dagli oggetti noti e conosciuti che sono l'elettrone e il positrone insisto su questo punto nel senso che quello che voglio dire è che nella fisica delle particelle non stiamo facendo della chimica non stiamo facendo della fisica nucleare cioè non è che stiamo prendendo due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno combinarli per fare l'acqua o spezzare il nucleo di piombo per fare criptone, bari o quello che è cioè non sto riarrangiando i constituenti della materia in un modo diverso come nella chimica o come nella fisica nucleare sto veramente creando nuove entità in questo caso il muone e l'antimuone a partire dall'elettrone e dal positone ok allora così come potevo creare il protone ah no prima volevo dirvi verifichiamo che le leggi di conservazione che ho descritto prima siano verificate in questo processo allora vi avevo detto che la carica elettrica deve essere sempre conservata è vero perché a sinistra ho un più o un meno quindi uno zero totale e a destra ho un più o un meno quindi uno zero totale e siamo a posto il sapore leptonico individuale è conservato? beh sì perché a sinistra ho un sapore leptonico elettronico più uno può rispondere all'elettrone e meno uno che corrisponde all'anti-elettrone cioè il positrone e quindi un totale di zero sapore elettronico a sinistra e a destra ho di nuovo sapore muonico totale zero perché ho un più e un meno che sono stati creati quindi il sapore leptonico individuale è conservato anche in questo caso ora così come potevo creare un muone positiva e negativa una coppia di muone positiva e negativa posso creare una coppia di particella tau positiva e negativa oppure posso creare i neutrini neutrino elettronico e antineutrino elettronico oppure anche degli altri sapori il neutrino muonico e antineutrino muonico e l'altra coppia neutrino tau e antineutrino antineutrino tau oppure posso creare una coppia di quark potrei creare per esempio a partire dalla bosone z un quark up e un anti-quark up allora qui devo stare un po' più attento devo stare attento anche che sia conservata la carica totale di colore che abbiamo visto essere una delle altre proprietà conservate ma di nuovo è vero perché creo un quark verde in questo esempio e creo anche un anti-quark antiverde e quindi il totale è zero ed è conservato e anche il sapore barionico totale è conservato perché come vi dicevo all'inizio parto con zero quark ho soltanto dei ho soltanto degli elettroni e positroni e a destra invece ho un quark e un anti-quark quindi ho un totale ancora di zero quark e quindi anche questo è conservato e così posso produrre tutti gli altri tipi di quark l'up il down lo strange il charm il bottom per tutti i tre tipi di colori potrei fare il rosso l'antirosso il blu l'antiblu e così via tra parentesi non produco il quark top che è il più pesante di tutti perché come abbiamo visto ha una massa di 175 jev e quindi l'energia che l'app aveva non era sufficiente a produrre una particella così pesante ma comunque insomma il concetto è che con questo processo così semplice come la collisione di semplice in teoria come la collisione di elettroni e positroni posso costruire posso creare le entità nuove che sono queste tutte le altre particelle che abbiamo visto con l'eccezione del quark top che abbiamo visto nella tabella precedente vediamo un altro esempio di diagramma di Feynman ed è quello che ha a che fare con il decadimento del muone allora vi ho detto rapidamente che il muone il fratello grasso dell'elettrone siccome ha una massa più grande dell'elettrone è instabile cioè decade in un elettrone e qualcos'altro il diagramma di Feynman che descrive questo decadimento è il seguente avete qui il muone che arriva da sinistra diciamo si propaga che so io nell'atmosfera perché è stato prodotto da un raggio cosmico si propaga e poi a un certo punto emette un bosone W- questa linea ondulata azzurra e si trasforma quindi in un neutrino muonico questo vertice questi termini di interazione è descritto dalla Lagrangiana che abbiamo visto prima esattamente come quelli precedenti erano descritti dalla Lagrangiana che abbiamo visto prima il bosone W poi a sua volta si disintegra in un elettrone e un antineutrino elettronico quindi il muone si disintegrerà dopo un certo periodo dopo un certo percorso in un elettrone e una coppia di neutrino muonico e antineutrino elettronico questo tra l'altro è esattamente lo stesso diagramma cambiato leggermente che è sottointeso che spiega il decadimento la radioattività beta cioè spiega il fatto che un neutrone si trasformi in protone e un elettrone e un antineutrino elettronico qua mi sa che c'è un errore dovrebbe essere un down a sinistra ok quindi queste immagini i diagrammi di Feynman questo gioco diciamo di di disegnini mi permettono di rappresentare cosa succede nel mondo subatomico un elettrone che arriva in contropositrone e crea questo e quell'altro oppure un muone che arriva si disintegra e decade in queste particelle come l'elettrone e i neutrini ma come dicevo mi permettono anche di calcolare delle quantità per esempio se io volessi calcolare qual è la vita media di un muone cioè quanto tempo in media lui esiste prima di disintegrarsi in elettrone e neutrini lo potrei fare grazie proprio ai diagrammi di Feynman che mi richiamano le formule contenute nella Lagrangiana ora qui le cose sono scritte vagamente sullo sfondo non possiamo entrare assolutamente nei dettagli ma l'idea è che a partire da i termini della Lagrangiana e a partire dalle proprietà che abbiamo visto delle varie particelle posso calcolare i teorici possono calcolare la vita media di sopravvivenza di un muone e si trova un numero che per esempio è 2.2 per 10 alla meno 6 secondi cioè 2 diciamo microsecondi un muone prodotto nell'atmosfera esiste per 2 microsecondi e poi si disintegra in media si disintega in elettrone e coppia di neutrini gli sperimentali ovviamente sono andati a fare la misura di questa quantità qual è la vita media di muone prodotto per esempio nell'atmosfera e trovano esattamente questo valore con svariate cifre decimali di precisione quindi il modello standard mi permette di calcolare di rappresentare e di calcolare con precisione i processi naturali della fisica delle particelle come per esempio la disintegrazione di muone o la produzione all'EP di una coppia di mu più mu meno e quant'altro se volete divertirvi diciamo così a costruire voi stessi i diagrammi di Feynman tutti i diagrammi di Feynman possibili e immaginabili e quindi tutti i processi di fisica delle particelle possibili e immaginabili potete prendere queste slide queste tessere del domino che presento nelle prossime slide e combinarle nei vari modi per costruire tutti i diagrammi di Feynman che vi potessero venire in mente per esempio vedete questa tessera qua in alto a sinistra corrisponde al propagatore si dice cioè all'elettrone che si propaga nello spazio da sinistra a destra girandola dall'altra parte per convenzione la freccia cambia verso e quindi si descrive un positrone se andate a rivedere gli esempi precedenti è così e questa tessera potete attaccarla per esempio a quest'altra tessera che che fa vedere come le due gambe dell'elettrone e o del positrone si fondono per formare un bosone Z e poi dall'altra parte potreste per esempio attaccarci questa tessera qua sotto che mi dice come lo Z si divide si splitta a sua volta in che so due neutrini in questo esempio che potrebbero essere questo questo o questo e ritroviamo gli esempi del primo caso e così via per tutte le altre immaginate di prendere una slide così stamparla in varie copie tagliarla e poi attaccare le tessere rispettando le regole che vi ho dato di conservazione delle cariche elettriche delle cariche di colore e vedere quali e quanti processi potete riuscire a costruire ognuno dei processi che potete riuscire a costruire è un processo che avviene realmente in natura e potreste calcolarne le sue proprietà avendo un bagaglio tecnico più avanzato queste sono le tessere corrispondenti all'interazione dei quark quindi simili a quelle di prima ma per i quark che ho rappresentato in questo caso in verde poi ci saranno quelle dei rossi e dei blu le tessere corrispondenti alla particella di Higgs il bosone di Higgs e infine le tessere corrispondenti all'interazione forte quindi con i gluoni che sono queste molle molle rosse ok quindi abbiamo più o meno imparato come si come si mettono in gioco le particelle le une con le altre quindi il modello standard diciamo che in un certo senso lo conosciamo uno dei concetti più diciamo recenti come comprensione e anche un po' più difficile da comprendere è quello del ruolo che ha il bosone di Higgs nel modello standard quindi vorrei spendere gli ultimi dieci minuti su questo e poi sugli strumenti sulla conclusione il bosone di Higgs è una particella come dicevo particolare perché ha il ruolo di contribuire al meccanismo che dà la massa a tutte le altre particelle elementari intanto per correttezza storica bisognerebbe dire che il bosone di Higgs non è solo il bosone di Higgs ma queste cose le ha studiate e comprese un certo numero di persone e cioè in particolare Angler Brut Higgs Guralnik Hagen e Kibble che sono i principali fisici associati a questo a questa comprensione globale del meccanismo ma diciamo per far semplice il comitato NOB del Nobel ha assegnato il premio Nobel a sostanzialmente al lavoro di tre persone che è stato più di più chiaro impatto sulla fisica delle particelle e queste tre persone sono François Angler Robert Brut e Peter Higgs con l'eccezione del fatto che purtroppo Robert Brut il secondo qui è morto pochi mesi prima della scoperta del bosone di cui stiamo parlando e quindi non ha potuto ricevere il premio Nobel Allora per fare in fretta parlerò sempre di bosone di Higgs perché è più che altro al signor Higgs che viene associato a questa particella ma per correttezza bisognerebbe chiamarlo il bosone di Angler Brut e Higgs e se mai andate in Belgio vi consiglio di farlo perché Angler e Brut erano Belgi e quindi ci tengono molto ora il bosone di Higgs è la risposta sostanzialmente alla domanda seguente perché una particella ha massa M la risposta è abbiamo visto che questo è un problema nel modello standard perché non sappiamo il perché un elettrone è così leggero rispetto a un quarktop che è così pesante la risposta forse un po' deludente è che la particella ha una massa M perché interagisce con il campo di Higgs con un'intensità diciamo Y che è proporzionale a questa massa M alla sua massa M quindi in un certo senso sto dicendo che la massa di una particella non è una vera proprietà intrinsica di quella particella ma è soltanto il riflesso del fatto che questa particella interagisce con il campo di Higgs più o meno intensamente con un'intensità diversa cosa voglio dire? voglio dire che dovete immaginare che il campo di Higgs sia una specie di mezzo continuo che permia tutto l'universo pensate non so a una nebbia invisibile che permia tutti i punti dello spazio-tempo in modo costante dappertutto con una con una intensità V una melassa non so un liquido invisibile che permia tutto lo spazio e il tempo le particelle come per esempio un elettrone o un quarktop che si propagano nello spazio-tempo che viaggiano nello spazio-tempo nell'universo interagiscono con questo campo istantaneamente cioè punto per punto passo passo e nel fare questo acquisiscono quindi una specie di inerzia che corrisponde alla loro massa quindi una particella come l'elettrone quando si propaga nello spazio-tempo interagisce relativamente poco con il campo di Higgs e per questo acquisirà una massa più leggera sarà una particella leggera una particella invece come il quarktop interagisce molto con il campo di Higgs e quindi fa fatica a propagarsi in questo universo pieno di questa melassa diciamo e quindi acquisisce una massa superiore corrispondente questa maggiore maggiore inerzia quindi di nuovo la massa di una particella non è niente di fondamentale bensì è il riflesso del fatto che queste particelle elementari interagiscono in modo più o meno forte con il campo con il campo di Higgs allora vi ho detto che il campo di Higgs è un mezzo continuo una specie di oceano uguale dappertutto in tutto l'universo ma possiamo immaginare anche che su questo oceano ci siano delle piccole increspature delle onde e queste onde corrispondono a una particella sapete che in meccanica quantistica posso interpretare una particella come un'onda come un corpuscolo queste onde corrispondono a una particella e questa particella è il bosone di Higgs quello che chiamiamo appunto bosone di Higgs quindi da un lato c'è il campo di Higgs che permea tutto l'universo costante dappertutto e le eccitazioni le increspature di questo oceano sono la particella di Higgs che chiamiamo bosone di Higgs la storia dice che questa intuizione l'hanno avuta appunto queste tre persone più o meno contemporaneamente nell'estate del 1964 come vedete da questi articoli pubblicati in realtà Peter Higgs aveva avuto l'intuizione probabilmente per primo ha mandato l'articolo alla rivista ma gli ha tornato indieto dicendo non si capisce bene quale sia la conseguenza pratica se esistono veramente delle particelle associate a queste fluttuazioni a questo meccanismo mentre gli altri Angler e Brut avevano scritto già tutto quanto anche se qualche settimana più tardi in un articolo che è stato immediatamente accettato Brut Higgs non si è fatto scoraggiare ha risottomesso l'articolo ad un'altra rivista aggiungendo una nota sul fatto che si potevano creare queste che vedete qua piccole che si potevano creare questi quanti di particelle che sono il bosone che adesso porta il suo nome e quindi anche lui è stato anche il suo articolo è stato accettato con qualche settimana di differenza e questi sono gli articoli che hanno fatto la storia che vedreste anche nel museo al CERN per concludere due cose direi la prima è raccontare quali sono gli strumenti che utilizziamo per fare queste scoperte e per in generale investigare la fisica delle particelle e poi vi dico che cosa resta ancora da scoprire gli strumenti che utilizziamo di alcuni ho già parlato per esempio gli acceleratori del CERN questa è una visione una vista d'artista aerea dell'acceleratore del CERN l'LHC che si trova in un tunnel a 50 150 metri di profondità nella campagna attorno all'aeroporto di Ginevra più o meno dove si trova Antonella che starà più o meno da queste parti qua e che fa percorrere questo anello a dei protoni che vengono fatti collidere al centro degli esperimenti chiamati ATLAS CMS Alice e LHCB quindi l'idea è che nell'acceleratore nell'anello dell'LHC faccio collidere protoni da un lato e dall'altro con un'energia di 7 tera elettronvolt e nel punto di collisione cerco di scoprire di produrre particelle nuove che in questo momento ho chiamato chi per esempio qui o cai la lettera greca e esattamente come nell'esempio precedente vi dicevo che all'EP si facevano collidere elettroni e positroni per creare un muone un antimone o le altre cose che abbiamo visto altri esempi di esperimenti interessanti per sondare il mistero della fisica delle particelle sono per esempio questo il fascio di neutrini dal CERN al Gran Sasso CNGS che consisteva che è stato attivo diciamo agli inizi di questo degli anni mila che consisteva sostanzialmente nella cosa seguente si produceva un fascio di neutrini al CERN di tipo neutrini muonici e li si inviava sotto la crosta terrestre fino ai laboratori del Gran Sasso vicino all'Aquila in Abruzzo in Italia e si pescava dall'altra parte il laboratorio di Gran Sasso cercando di capire quali proprietà avevano e che cosa gli succedeva durante il viaggio come ho detto a un certo punto i neutrini sono particelle che interagiscono molto poco con la materia perché sono soggetti soltanto alla forza debole e quindi possono attraversare 732 chilometri di roccia senza venire bloccati dalla materia in questo modo per esempio che si è scoperto anche in questo modo che si è scoperto il fenomeno delle cosiddette oscillazioni dei neutrini e cioè il fatto che un neutrino potesse partire di tipo muonico al CERN e arrivare di tipo tauonico questo rosso al laboratorio del Gran Sasso una novità che non è compresa nelle nostre convenzioni del modello standard altri esperimenti interessanti sono quelli che si fanno sottoterra negli esperimenti negli esperimenti sotterranei per esempio per le particelle come i neutrini o per le particelle come la materia oscura che possono attraversare grandi quantità di materia si va a mettere degli esperimenti in laboratori sotterranei per esempio questo della miniera nel South Dakota della miniera di Homestake in South Dakota dove a profondità di circa 2000 metri 2 chilometri sottoterra in una miniera di nickel ancora attiva si mettono esperimenti tipo questo sulla destra o tipo questo che per la vita si trova in una miniera in Giappone la miniera di Kamioka in Giappone per cercare di rivelare il passaggio di particelle estremamente elusive come i neutrini o le particelle di materia oscura questo sulla sinistra per esempio è l'immagine dell'esperimento Super Kamiokande che si trova in Giappone e questa è una vasca riempita di acqua sostanzialmente questo puntino sono due giapponesi su un canotto che vanno a controllare le migliaia decine di migliaia di sensori ottici questi puntini che vedete che rivelano il passaggio il flash luminoso dato dal passaggio di una particella o neutrino o un particella di materia oscura per le particelle che invece non possono penetrare sulla crosta terrestre o addirittura sotto la crosta terrestre abbiamo messo rivelatore nello spazio per esempio il rivelatore AMS02 che si vede qui è installato sulla stazione spaziale internazionale a 400 km di altezza e che raccoglie le particelle che ci arrivano dallo spazio dai fenomeni spaziali dei galattici come gli elettroni i positroni i neutroni gli antineutroni e così via il satellite Fermi che si trova a un'altezza di 450 km che è un rivelatore a raggi gamma che quindi rivela raccoglie i raggi gamma che ci arrivano dai fenomeni spaziali o addirittura andando ancora più lontano la sonda Voyager che è un satellite lanciato nel 1976 quando io ero appena nato e che ha oltrepassato da poco da qualche anno i confini del sistema solare uno degli unici due oggetti Voyager 1 e Voyager 2 sono gli unici due oggetti che hanno oltrepassato i confini del sistema solare e che stanno viaggiando verso la prossima stella la stella più vicina a noi ma che ancora dopo 45 anni quasi ci mandano i loro dati via radio con le antenne e quindi ci informano sulla quantità di particelle che gli arrivano dai fenomeni galattici che li circondano e infine i raggi cosmici che sono un utensile molto importante sapete che i raggi cosmici ci arrivano da esplosioni di stelle o dal sole e colpiscono l'atmosfera e producono una doccia di particelle che vediamo rappresentate qui per esempio che corrispondono alle particelle che abbiamo citato prima per esempio i pioni i fotoni gamma gli elettroni i positroni i muoni i neutrini e così via studiando questo meccanismo capiamo quali sono le interazioni e quali sono eventualmente nuove particelle che possano essere prodotte esattamente come negli esperimenti all'acceleratore e negli esperimenti precedenti per far cosa? cosa ci resta ancora da scoprire? ce ne sono tantissime cose da scoprire in realtà il modello standard è perfetto per quello che può fare per quello che può descrivere è estremamente preciso come dicevo a un certo punto ma non è capace di spiegare una grande quantità di cose per esempio non è capace di spiegare quindi quali sono i problemi aperti in fisica delle particelle non è capace di spiegare perché le particelle hanno masse diverse l'una dall'altra allora abbiamo detto che è perché le particelle interagiscono diversamente col bosone di X ma perché le particelle interagiscono diversamente col bosone di X qual è il meccanismo soggiacente che spiega queste differenze non lo sappiamo oppure un'idea che si sta testando in questo momento negli esperimenti di fisica delle particelle è quella della supersimmetria che dice che magari è un'ipotesi che dice che magari tutto ciò di cui vi ho parlato cioè il modello standard non è altro che la metà delle particelle che realmente esistono in natura in natura potrebbero esistere secondo queste ipotesi tutto un altro settore di particelle che chiamiamo particelle supersimmetriche che hanno le proprietà delle proprietà simili alle particelle del modello standard ma una mass molto più elevata e quindi possiamo sperare di produrle all'acceleratore o per esempio nei raggi cosmici un'altra ipotesi è che lo spazio tempo come lo conosciamo non abbia soltanto tre dimensioni cioè la lunghezza altezza e larghezza più il tempo fa quattro ma abbia molte più dimensioni spaziali cioè voglio dire che in ognuno l'ipotesi è che in ognuno dei punti dello spazio ci siano tutta una serie di dimensioni spaziali supplementari rotolate in anelli infinitesimamente piccoli e in quanto tali invisibili l'idea è che facendo esperimenti a energie sempre più elevate possiamo sperare di entrare dentro a queste dimensioni e in un certo senso aprirle e vedere che cosa contengono e come è fatto veramente lo spazio-tempo nella sua struttura più intima un altro problema importante fondamentale della fisica delle particelle attualmente che è quello su cui lavoro tra l'altro è quello della materia oscura cioè capire che cos'è che costituisce l'80% della materia dell'universo perché le misure cosmologiche e astrofisiche ci hanno fatto capire che la materia che il modello standard la materia che conosciamo quindi gli atomi sostanzialmente costituisce soltanto il 20% della materia contenuta nell'universo l'80% il resto è un qualche tipo di materia invisibile ma fondamentale per spiegare la formazione delle galassie e la loro dinamica che non conosciamo un tipo di materia nuovo che costituisce la grande maggioranza della materia dell'universo ma di cui non abbiamo assolutamente nessuna idea altri problemi sono per esempio il perché nell'universo esista solo materia e non antimateria cioè perché noi siamo fatti di protoni i pianeti sono fatti di protoni e non di antiprotoni non esistono gli antipianeti le antestelle e così via deve esserci stato a un certo punto nell'universo un momento in cui i protoni la materia ha avuto la meglio sull'antimateria e quella che è rimasta è una specie di sopravvissuti di un'annichilazione gigantesca che è avvenuta in un qualche momento all'inizio dell'universo e infine altre domande un po' più tecniche sono quali sono le proprietà della materia a temperature e energie e densità elevatissime quello che si chiama per esempio il plasma di quark e gluoni è uno stato della materia che viene prodotto nelle collisioni per esempio all'interno dell'HC quando i quark per un istante possono essere considerati liberi e non legati all'interno di un protone o di un neutron questo è una lista molto parziale delle cose che ancora dobbiamo scoprire nell'universo che ci circonda e nella fisica delle particelle elementari il modello standard ci permette di avere una comprensione estremamente buona e precisa della base delle cose che può descrivere ma il modello standard è anche incompleto fortemente incompleto perché non è in grado di spiegare tutti questi problemi aperti per esempio in particolare quello del contenuto di materia di tutto l'universo che sono attualmente l'oggetto delle investigazioni e con questo mi fermo